Si va al ballottaggio a Castrovillari tra Mimmo Lopolito, ex sindaco che rappresenta il centro-sinistra, e Giuseppe Santagada, il candidato sostenuto da quattro liste civiche. Da oggi dunque riprende la campagna elettorale e se da un lato Santagada si dice disposto al dialogo con gli altri candidati, Lopolito si affida agli elettori e per ora non parla di ipotetici apparentamenti. I cittadini ritorneranno alle urne domenica 14. A San Giovanni in Fiore invece vince Giuseppe Belcastro del PD. C'è da segnalare però che nel paese che ha dato i Natali al governatore Mario Oliverio questa tornata elettorale si sono recati alle urne solo il 55% dei votanti.